un saluto a casa a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono pepe ed oggi siamo su un nuovissimo episodio di team fortress è con noi c'è io trovo in turno quindi siamo in una nuova modalità e questo lascio tutto al tecnico vai vai spiegato spiegato allora questa potenza punto di controllo e in pratica noi in questo caso questi più rossi dobbiamo difendere i punti di controllo invece il blu dovranno conquistarli in pari da quando c'è un del mio auto tempo e quando il blu con questo punto di controllo guadagno più tempo e quando un questo punto di controllo si sblocca l'ha dato il brunevolo utessivo ok ho capito ecco in questo caso già sono conquistando subito qua mi è morto e si ma dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare eh dove sei qua qua vabbè difendi quel tuo polo ah dobbiamo difendere questo polo no no deve andare nell'altro nell'altro quella è una spia quello c'è una spia là dove sei guardo non lo so ma quindi qua perdiamo anche le munizioni certo da quando ho capito o li perdevamo in tutti vai vai stai andando nella direzione giusta vai di là di qua ah ecco di qua metti di qua metti di qua metto qua metto qua metto qua e se loro sparano a me finchè c'è casino c'è casino nel mondo ok perfetto qua va bene vai ok giovanni dove sei più avanti sono i punti di stare lì ecco madonna di dove mi stanno madonna questo soldato lo odio ma no così ho 10 minuti e 40 e tre botte no ma stanno molto di controllo si questo è il loro tempo di quanto tempo hanno per conquistarci ma che cazzo è perché hanno conquistato anche gli altri punti di controllo devi stare due al primo perché stanno arrivando quindi stai lì qual è il primo quello che appena spawni ah ok ok minchia sono scatti wow 231 isa è morto ma c'è il mondo 242 appena rinascolto sui squadronette disperto ok ho sbagliato vabbè ok niente qua gente che parla a caso che cazzo si ora mando un messaggio anch'io aspetta prima fammi il coro vabbè ma come si prende chi è il bazooka il soldato ok ehi amici come sta andando la vita ok cosa vi farà lì questo mi hanno risposto in italiano ahahah ahahah che cazzo che cazzo daie ce la possiamo fare ce la possiamo fare ma è il dedo caso non è quello che lanciò la gi l'ho capito giusto ok questa cosa fa ok è sempre grado mi hanno ucciso ma mi sta pure domenica ma ancora che ti domino eh si ma cerco di costruire qualcosa andammi 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 oh ma allora siete scarsi siete scarsi siete non sapete fare niente eh proprio siete scarsi è colpa tua tu chi stai parlando è colpa tua io lo so che è colpa tua è colpa tua io lo so che è colpa tua io lo so che stai parlando basta non vuoi più sempre con me che no che no che no che caspita dici zitto stai a entra zitto figo hanno vinto che che mi distruggia la torretta madonna quella torretta dell'oro ma dove hai messo la torretta lì sopra l'oro ingegneri bra 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 ma scusa una cosa che è che vedo loro comunicano in lingua strana è arrivato un ora ora noi comunichiamo anche in lingua strana vucumbra 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 gente che scrive su sky sto scostando il mondo questa classe mi piace ora sparo proiettili a caso wow 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 a casa a casa a casa a casa a casa a casa non ne ho più dimmi guarda lo pare sei tu questo che ha fatto la perezza si però mi dico sempre mi occhio occhio Beppe dove? ancora tu ma ti togli ti devi togliere ancora ah ma pensavo che questo era qualcuno invece ho rottato non è pronti madonna se spiero mi falle ok ok ancora morite eeeh non cos'è un Veramente non l'avevo capito, io non mi capivo Spelle di gioco, dai per fare da due No, no, ti voglio spelle A chi ha me? Sì, sono stato questo stronzo Perché io mi voglio spelle? Non so, per ragioni non specificate Non specificano neanche le ragioni Ma anche... sono dei grandi Senza neanche specificare le ragioni, eh, bravi, bravi Che bello prendere per cura le persone Madonna è là sopra! Sì! Sono vendicato Ora prendono nel culetto che sei qua Giovanni, voglio sapere quale ragazzo Non c'è, non c'è Non c'è, non c'è Le fai spodre a quello con il destro Vieni qua, vieni qua, torno indietro, torno indietro Sì, l'ho fatto... l'ho ucciso qua Forno indietro, scusa, non l'avevo capito Eh sì, vieni qua Vieni qua, vieni qua, sicurati Fa il figura Ho questo, sto andando qui fermo Il dispensa è questo di cura Sembra la Newcocola Identico Ci diamo gioie Eh esatto, sto facendo la stessa cosa Dai che questa la vinciamo Oh, la torre, la torre Ma la torre, la torre, la torre, la torre No, la mia torre, la mia torre Il mio tutto È là sopra, devi sbagliare là sopra Io sparo a cazzo Sì Lo perso Ma siete scatti, tutti quanti siete scatti Non ci faccio questa Eh Eh, adesso Perché nessuno mi aveva difeso la prova L'altro adesso Ti chiedi votazione? Sì, qua È splegiatori moaning friend Ma perché sono la votazione? Nessuno mi aveva specificato Ma è chissà tu? Sì Sì Aspetta Ho aperto un sacco di cose Dove sei? È una mamma strana Ho trovato il soldato Non è la mia iniziale quella Prendi i giri vicino a questo Vicino a questo Che ha il simbolo in testa Sì questo qua Il simbolo Perché stai ballando? È la round È l'ultima gara È il ballo russo Non sbaglio Sotto le stelle Per smettere di mingire Ok, già Ok, sì, l'avevo capito No ma No ma Ti chiedi che ancora balla Sì Ma mi fanno... Ma noi dobbiamo conquistare ora le cose Oh, ok Sì Eh, devi... Come si conquistano le cose Ti ho visto morire in diretta Incoming Sì l'ho ucciso Swagg Sì questo qui Ho usato l'acqua Usato l'acqua Cazzo di armata Acqua marina Anche io devo dire No niente Acqua marina Non è una stramba Non è una stramba Non è una stramba Non è una stramba Sto conquistando Sì noi Che bello Ciao Sì Stiamo conquistando Ciao ma Stiamo un sacco Sì Arrivo anch'io Facciamo più... Velocemente Facciamo prima così Ah Andi... Una conquista di gruppo No no chi è? Da dietro Che bella cosa Abbiamo conquistato Devo spare a caso Quattro minuti in più Che bello E dopo mille morti Mille sconfitte Senza senso Alla fine abbiamo perso Definitivamente Ovviamente come tutte le altre morte Stai guardando a me? Stai guardando a me? A far cura però ok Vabbè penso che potremmo anche concludere qui ragazzi Ma questo che problemi ha? I medici I medici scappono sempre Va bene Lo so Ma che problemi ha questo? Vabbè ragazzi quindi penso che possiamo concludere qui Tutto da te per me Da due È tutto Ciao a tutti